1, 2, 1, 2, 3, 4 Oggi intervisteremo Paolo Bernanze Lui è attuale allenatore della squadra femminile americana di Sarti con gli sci Per accompagnare le proprie atlete ha viaggiato molto e attualmente abita negli Stati Uniti Per farci un'idea sulle differenze tra i due paesi, cioè America e Italia Abbiamo voluto utilizzare un tipo di intervista, botte e risposte Le domande che faremo riguarderanno le sue opinioni tra i due Stati Cibo Italia Ospitalità Italia Tifo America Piste da sci di fondo Italia Paesaggi Italia Pizza Italia Hamburger America Attori America Musica Né uno né l'altro Né uno né l'altro Né A me Case Questo è difficile Questo è difficile perché dove sono io è un posto VIP quindi c'hanno delle case che qui da noi non ci si può permettere però posso dire che le nostre case sono più case quindi dico Italia ancora Lingua Trampolini Trampolini der salto Donne Italia Abbigliamento Italia Grazie a tutti.